133, contrario 294, la Camera respinge. Siamo al 146, Crippa. Allora, per il contrario dichiaro aperta la votazione. Allora, non votato? Sì, non votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 122, contrari 303, la Camera respinge. Allora, 147, Duva, l'accetta come raccomandazione? Sì, andiamo avanti. 148, Luigi Gallo, il parere è contrario. Dichiaro aperta la votazione. Carlotti, Vico, Paola Bragantini, Caruso. Caruso. Allora, ci siamo. Hanno votato tutti? No, Malpezzi. Ecco, ha votato. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 117, contrari 301, la Camera respinge. Siamo al 149, Di Benedetto, il parere è contrario. Dichiaro aperta la votazione. Carrescia. Carrescia. Turco. Turco. Magorno. Magorno. Segoni. Bene, hanno votato tutti, allora. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 85, contrari 314, la Camera respinge. 150, Chimienti, accetta. Deputata Chimienti, dove sta? Accetta come raccomandazione? Sì, andiamo avanti. 151, grandi, accetta. Andiamo avanti. Allora, 154, c'era il sottosegretario. Prego, sottosegretario. Sì, è accolto come raccomandazione. Cambiamo il parere. Va bene. Andiamo avanti. Abbiamo il 155, Matarrelli. È un parere contrario. Lo votiamo. Dichiaro aperta la votazione. Tartaglione. Tartaglione. Allora, ci siamo? Hanno votato tutti? Sì. Dichiaro chiusa la votazione.